Armont & Blaine dal 1995, anno della sua nascita, viaggia al passo con le esigenze del consumatore. La griffa del bassotto è giovane, dinamica, svelta e anche comoda e classica, grazie a materiali confortevoli e all'altissima qualità dei tessuti. L'attuale collezione riesce a far incontrare lo stile giovane dei ragazzi con un'immagine più formale ed intellettuale dell'uomo. Armont & Blaine riesce a colorare gli armadi con semplicità e personalità allo stesso tempo.